Il Real Madrid ha conquistato una vittoria convincente contro il Manchester United, con un risultato di 2-0 nel Soccer Champions Tour, lasciando il segno grazie a Bellingham e Gioselu. Ricordati di iscriverti al canale ed attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornato. La partita si è sbloccata in fretta, appena sei minuti dopo il fischio d'inizio, quando Bellingham ha segnato il suo primo gol con la maglia blanca. Un perfetto lancio di Rudiger ha messo l'ex giocatore del Dortmund in posizione di tiro, e con un tocco preciso ha superato Onana con un morbido colpo sotto. Onana, l'ex portiere dell'Inter, ha dimostrato di essere in ottima forma con due interventi decisivi, uno su Vinicius e l'altro con un buon riflesso per parare il tiro di Gioselu. Ma Gioselu non si è fatto scoraggiare e, a un minuto dal novantesimo, ha sorpreso tutti con una spettacolare rovesciata su cross di Lucas Vazquez, segnando il gol che ha fissato il punteggio finale sul 2-0. La squadra guidata da Carlo Ancelotti dimostra di essere in ottima forma e si prepara a un altro grande appuntamento sabato 29 luglio, quando affronteranno il Barcellona nel famoso classico. Nel frattempo, il Manchester United di Ten Egg si confronterà con il Borussia Dortmund il 31 luglio, in un'altra sfida vincente del torneo. Tu cosa ne pensi? Fammelo sapere con un commento, lascia like ed iscriviti. Ci vediamo al prossimo video!